Intensa giornata di ricerche sul Nevegal. Riccardo Tacconi, milanese di 58 anni, era sparito venerdì mattina durante una corsetta. Dall'abitazione del villaggio Alpe in Fiore, in cui era arrivato con la famiglia per una vacanza, era partito per un giro di allenamento nella natura. Non è più tornato. L'allarme è scattato nel pomeriggio, con i primi sopralluoghi di soccorso alpino, vigili del fuoco e forze dell'ordine, proseguiti fino a notte fonda. Sabato, altra giornata di ricerche. Domenica, task force di 130 persone sulle tracce dell'uomo, alto 1,94 m, di struttura longilinea, con i capelli brizzolati e gli occhiali da vista. Al momento della sparizione, Riccardo Tacconi indossava pantaloni neri aderenti, un pile rosso, scarpe da ginnastica verde fluo, cappellino scaldacollo e guanti neri. Con sé non aveva il cellulare e questo ha complicato il lavoro dei soccorritori, che hanno effettuato sorvoli in elicottero, ricerca a piedi, battute con le unità cinofile e sopralluoghi con il drone. Si continua a cercare. La figlia Caterina ha tempestato le baccheche dei gruppi Facebook legati a Belluno e al Nevegal con un messaggio rimbalzato per tutta la domenica anche su molti profili privati. Serve gente per continuare a perlustrare. Domani è lunedì e molti volontari riprenderanno a lavorare. La zona battuta è molto ampia e si estende fino al Visentin. Nonostante l'ondata di maltempo di due mesi fa abbia diradato parte dei boschi che coprivano il Nevegal, in alcuni punti la vegetazione rimane fitta e la conformazione del territorio non aiuta.